buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv siamo alla fine settimana ci prepariamo magari a così a passare un giorno di festa un giorno tranquillo il tempo non è così tanto buono comunque non dovrebbe piovere almeno così dicono le previsioni poi vedremo allora come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia santa riberto di colonia un santo che visse tra il decimo e l'undicesimo secolo siamo nei pressi dell'anno mille l'anno della professia l'anno della fine del mondo l'anno dei timori e delle grandi paure ebbene santa riberto di colonia rassicurò i suoi fedeli fu fatto vescovo della sua città e poi fu anche cancelliere dell'imperatore ottone terzo quindi vedete come si distinse per la sua cultura ma anche per il suo modo di approcciarsi con i fedeli gestì la sua diocesi con grande zelo padre e pastore soccorsi fedeli nelle miserie morali e materiali così dice appunto il calendario canonico e si distinse per la sua generosità di cuore un santo tedesco abbiamo visto come in questi giorni sono si festeggiano santi di tante tante nazionalità spagnoli francesi tedeschi italiani questa settimana abbiamo festeggiato san luigi orione quindi santi da cui prendere un esempio per una vita morale condotta anche ai giorni nostri perché sono santi molto molto attuali ed ora passiamo alle previsioni del tempo ebbe il tempo è un po cambiato rispetto alla giornata primaverile di ieri oggi vediamo molte nubi sulle marche con deboli piogge in transito nel pomeriggio specie nei comparti centro occidentali le massime le temperature massime si aggirano tra gli 11 per quanto riguarda la minima i 15 16 ma anche i 17 gradi per quanto riguarda la massima i venti sulle coste da sud ovest dall'entroterra da ovest nord ovest il mare è leggermente mosso ed ora passiamo alle notizie del giorno a partire oggi dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che si parla di una inaugurazione anzi diciamo così dell'avvio dei lavori non non di un'opera finita ma di un'opera che sta per iniziare ed è la realizzazione del nuovo asilo nido di ballato di via della colonna un il terzo che viene così posto in fase di lavoro da questa amministrazione comunale dopo quello di cucurano dopo quello di bellocchi ora un nuovo asilo nido tre asili nido nel giro di poco tempo sono veramente una previsione piuttosto corposa perché è da tempo che a fano di asili nido non se ne costruivano più l'ultimo è stato costruito dalla fondazione carifano ed è l'asilo gaggia a fano 2 ebbene questo sostituisce il girotondo l'asilo del vallato di via della colonna che avrà una dotazione di posti per i bambini della fascia tra 0 e 3 anni di 120 unità in pratica oltre il 40% in più rispetto ai 272 attuali vediamo questo è il complesso di tutti e tre gli asili nido mentre quello specifico di via della colonna ha 45 posti e sono tre sezioni da 15 posti ciascuna 1430 metri quadrati l'area occupata dalla nuova costruzione che si trova nei pressi proprio dell'area gioco che è stata realizzata recentemente nell'aeroporto di fano un aeroporto che purtroppo rimane ancora in stallo perché l'amministrazione comunale sta rescindendo il contratto con la ditta che insomma non è riuscita a eseguire nei tempi dovuti il progetto per decenni non è stato costruito un solo nuovo asilo nido ha detto l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin ed ora questa amministrazione ne ha fatti ben tre alla posa della prima pietra c'era anche l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che ha descritto un po' questa nuova struttura che veramente si distingue per la sua bellezza, la sua funzionalità e la sua capacità di rispondere alle esigenze soprattutto dei residenti del quartiere del Vallato vediamo ora le altre notizie ieri c'è stata invece una inaugurazione vera e propria ed è stata quella della stanza tutta per sé una realizzazione realizzata dal Soroptimist Club di Fano nella caserma dei Carabinieri di Viale Piceno una stanza tutta per sé che cosa significa? beh innanzitutto dobbiamo dire che è una stanza molto intima particolare una stanza con i colori tenui dotata di superlettili molto intelligentemente collocati è una stanza che agevola le confessioni delle donne vittime di violenza per quanto riguarda argomenti molto molto sensibili molto delicati spesso difficili a fare venire in superficie anche l'ambiente in questo caso collabora, aiuta a denunciare quello che è stato fatto perché poi tutto questo rappresenta anche un dolore molto molto grave che rimane nell'animo delle vittime che l'hanno provato è un ambiente, dicevo, con i colori tenui con un angolo gioco per i bambini un tavolo tondo che non ha spigoli ebbene tutto questo è stato descritto ieri dalla presidente del Soroptimis Club Maria Cleofe Contardi che ha inaugurato insieme alle sue socie c'era anche la presidente nazionale del Club oltre al prefetto Emanuela Saverio Greco il procuratore capo di Pesaro Cristina Tedeschini il procuratore capo di Urbino Simonetta Catani il capitano Maximiliano Papale ma c'era anche il colonnello il comandante provinciale dei carabinieri Gianluigi Cirto insomma tutte queste personalità c'era anche l'assessore Sara Cucchiarini che si occupa di pari opportunità tutte queste personalità per evidenziare come c'è una grande attenzione nei confronti delle delitti contro le donne le malversazioni le violenze e tutto quello che sta facendo e vediamo anche oggi un altro episodio lo vedremo più tardi sulle cronache dei giornali donne e minori abusate nella stanza tutta per sé un angolo appunto per riuscire a diciamo così a intervenire nel modo appropriato di fronte a questi reati passiamo anche ad un'altra notizia un funerale dopo quello di Vincenzo Minardi ieri si è celebrato il funerale di un altro personaggio noto nella città di Fano si tratta di Luigi Ferri il grande appassionato di volo gestore per vent'anni della società aeronautica Fano un fortuna per quanto riguarda l'aeroporto era un uomo un campione del volo innanzitutto un campione in quanto ha conquistato un titolo mondiale oltre a sette titoli nazionali per quanto riguarda campionati di rally sono che campionati di precisione che partono da un punto arrivano ad un altro che devono percorrere tutto questo secondo determinate regole ebbene è stato un grande assertore della pista in cemento per assicurare la sicurezza dei velivoli e per lanciare anche l'aeroporto di Fano a livello nazionale come tappa intermedia per tutti i voli che si svolgono lungo la penisola in modo da servire da offrire agli appassionati di volo i servizi essenziali come quello per esempio delle carburanti quindi una tappa importante che poi avrebbe lanciato Fano perché oltre ai servizi aeroportali Fano poi aveva il porto aveva gli alberghi aveva le spiagge e tutte le sue offerte turistiche di carattere culturale e artistico quindi un grande concorso di amici per portare l'ultimo saluto a Luigi Ferri che aveva anche una sua attività imprenditoriale tra le più note per quanto riguarda dei trasporti terrestri lui serviva le Marche e l'Emilia Romagna ora ha una ditta che portano avanti i suoi figli e i suoi nipoti vediamo le altre notizie a Fossombrone da Fossombrone sorge ancora una volta la carenza dei medici per quanto riguarda l'assistenza l'assistenza sanitaria ebbene al 118 nel servizio c'era un solo medico su tre quindi vedete come siamo veramente all'osso in crisi la rete dell'urgenza nella vallata perché poi quello che succede a Fossombrone si ripercuote anche in una ampia zona del territorio l'altra notte il servizio di emergenza urgenza è rimasto sguernito possiamo dire lungo tutta la valle del Metauro l'unica ambulanza medicalizzata in servizio a Fano è dovuta intervenire a Monteguiduccio di Montefelcino per un codice rosso il 118 dell'ospedale di comunità di Fossombrone era senza medico il secondo professionista in servizio si è dimesso dal primo marzo scorso quindi questa è veramente una carenza che l'aste non può ignorare e quindi deve coprirla in maniera molto molto rapida perché ne vale poi la vita delle persone senza risposta alla fine di tante aziende agricole è una denuncia che proviene da Cagli una protesta che proviene da Cagli 70 trattori hanno sfilato da Qualagna e Cagli nato un comitato appunto ancora la protesta degli agricoltori ed ora passiamo invece a Mondolfo a Mondolfo si denuncia la pericolosità di una strada e via fermi una zona 30 per gli studenti viene richiesta per assicurare appunto la sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola la proposta è del consigliere Mancini che appartiene al Partito Democratico per limitare i rischi davanti alla scuola e vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla del ponte Garibaldi il comune ha deciso spostato di 30 metri e non obliquo lungo il Misa sarà spostato in una situazione più idonea più consona alla funzionalità della viabilità questa è una proposta dell'amministrazione comunale comunque non è vincolante ma dovrebbe essere accettata perché poi il vice commissario Babini possa passare alle vie di fatto ai termini esecutivi e vediamo anche come il processo di Corinaldo per quanto riguarda la strage della discoteca si avvii verso la conclusione Corinaldo processo agli sgoccioli la commissione non ha colpe e beh questa è una asserzione della difesa ieri le conclusioni appunto degli avvocati della difesa un'udienza poi per le repliche e quindi la sentenza siamo veramente alla fine di questa lunga vicenda giudiziaria se il personale della security avesse gestito l'emergenza purtroppo non sarebbe accaduto nulla è uno dei passaggi chiave della lunga arringa dell'avvocato Marina Magistrelli difensore dei tre di sei membri della commissione di vigilanza siamo veramente agli sgoccioli il 5 aprile ci saranno le repliche delle parti poi il 19 è attesa la sentenza del giudice il giudice Francesca Pizzii in totale la procura ha chiesto condanne per 49 anni e 8 mesi a tutte la somma delle richieste per quanto riguarda tutti gli imputati sulla pagina di Pesaro si parla della candidatura a sindaco dell'esponente del centro-sinistra che è stato scelto tra Vimini e Biancani è stato scelto Biancani è stato scelto Biancani però anche Vimini ovviamente avrà un posto di rilievo se il centro-sinistra vincerà la prossima tornata le elezioni nella prossima tornata amministrativa dice Biancani sarò il sindaco dei quartieri il porto il porto è una delle priorità programmatiche che il candidato sindaco coltiva fin da adesso e quindi coltiverà ancora maggiormente con maggior impegno se sarà eletto sindaco o dragaggio o si chiude ha detto Biancani dopo l'investitura delle PD guarda agli alleati e alla campagna elettorale priorità all'ambiente e abbiamo visto come invece per quanto riguarda il centro-destra il candidato sindaco che proviene poi dalla polizia sappiamo come ha un trascorso di poliziotto ma anche di sindacalista allora si confronterà appunto con Biancani prima pietra di Ricci and France per l'operazione regione 2025 il sindaco si candiderà all'europeo Schlein permettendo ma nel mirino c'è Acquaroli insomma adesso si parla di il nuovo che entra e il vecchio che esce però insomma aspira a un'altra carica in questo caso è Ricci per la scuola Ligieri è finita l'attesa da lunedì il cantiere poi si demolisce si demolisce la scuola la si ricostruisce sulla carta i lavori dovranno durare poco più di un anno e mezzo per concludersi nell'ottobre del 2025 vediamo un'altra notizia che pubblica il Corriere Adriatico abbiamo parlato di una stanza tutta per sé una stanza appunto che permette di parlare meglio di confessarsi meglio di denunciare meglio quanto è accaduto per le vittime di violenza e qui abbiamo un altro caso di violenza ma è ancora più squalido perché si tratta di un patrigno che sembra che abbia abusato alla figlia della moglie della compagna non era sua figlia vabbè però era una bambina di 13 anni nell'ambito di un contesto si tratta di un 46enne accusato di aver rivolto le sue attenzioni alla figliastra e alla sua anche amichetta del cuore ieri si è celebrato un processo con rito abbreviato scaturito da un fatto preciso sono diversi diciamo così gli episodi che sono stati riportati di fronte al giudice comunque il 46enne si tratta di un albonese accusato di violenza sessuale è stato condannato condannato a tre anni e sei mesi e poi ci sono risalcimenti in carattere civile 100.000 euro ma tutto questo poi dovrà essere confermato da un altro giudice vediamo poi per quanto riguarda la pagina di Urbino dove si parla anche qui di candidature vediamo Massimo Guidi che è il responsabile di azione che ha riconfermato il suo rapporto la sua collaborazione con il sindaco Gambini c'è stato prima una divisione ora si tratta si sono ricuscite le fila e quindi Massimo Guidi ritorna a collaborare con il sindaco in passato aveva ricoperto la carica di vice sindaco e vedremo come andrà a finire per il prossimo mandato chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino dove la prima pagina tutta la prima pagina è dedicata a questo spettacolo diciamo così di fantascienza sembra vi ricordate quando nel satiricon di Federico Fallini passa quasi un'astronave nello schermo in un contesto moderno ebbene non è un'astronave ma è una nave quella che invece è passata ieri nelle vie di Fano vie strette per questo scafo che è enorme che è veramente un colosso della cantieristica fanese maxi yacht in transito brivido in città e la gente grida le manovre addirittura dalle finestre attenzione passate un pochino girate appena insomma veramente è stato uno spettacolo di vedere passare questo gigante in modo particolare nei punti critici come la curva tra viale cavallotti e viale battisti per girare poi giù in fondo in viale adriatico sono questi i punti critici c'erano le macchine in sosta c'erano gli alberi c'erano le terrazze insomma è veramente stato un tour de force per quanto riguarda gli autisti che hanno dovuto calibrare veramente il passaggio per un centimetro tutti con il naso all'insù e il cellulare in mano per vedere questo colosso passare di 42 metri e poi ce ne sarà un altro che arriverà tra poco anche il resto del carlino parla della posa della prima pietra del girasole per 45 bambini abbiamo visto come il terzo che viene realizzato a Fano e poi inaugurato lo spazio d'ascolto per le donne la stanza tutta per sé al comando dei carabinieri di Fano che è dove si raccolgono le denunce e qua abbiamo anche una foto di questo spazio vedete il tavolino tondo in un angolo ci sono i giochi per i bambini perché anche i bambini poi devono stare con la mamma e poi tante foto di fiori di fiori alle pareti per dare un tono caldo un tono calorato un tono intimo a questo ambiente e ieri si è tenuto anche nella sala della fondazione Carifano un incontro di particolare importanza si è parlato di demenze di demenze senili tra cui l'alzheimer SOS alla politica fate qualcosa perché veramente l'incidenza di questa malattia è sempre in espansione e le famiglie non gliela fanno più perché questi malati debbono essere assistiti 24 ore su 24 e non si possono lasciare solo e spesso e spesso non è facile assisteli curarli perché poi sono dei momenti di particolare difficoltà la fondazione siamo disponibili a farci promotori della realizzazione di una struttura residenziale ma non da soli ha detto il presidente Giorgio Gragnola i candidati si impegnino e si fa un riferimento ai candidati alle prossime elezioni amministrative in modo che ognuno esprima il proprio impegno per realizzare questa struttura che viene assai richiesta nel comune di Fano a servizio anche del territorio perché poi anche il territorio ha bisogno di questa nuova struttura al momento c'è solo il centro Margherita ma con 30 posti si può fare ben poco Villaggio Ciano vietato alterare le casette il vice sindaco fanesi la facciata esterna sulla strada dovrà conservare l'immagine estetica originaria come è stato fatto per almeno una casetta di Metauriglia quelle che sono state fatte nell'epoca del Duce ed ora passiamo a San Costanzo a San Costanzo vediamo il ritorno di Stefanelli Michele Stefanelli candidato sindaco di San Costanzo del centro-sinistra mi candido a sindaco ha detto Stefanelli dopo una pausa di riflessione di ben 5 anni Stefanelli una persona molto nota in tutto il territorio ha 63 anni moderato si pone alla guida del centro-sinistra per il dopo Solcinelli siamo come Solcinelli ha rinunciato ad una sua ricandidatura e mentre a Durbino si istituisce un nuovo indirizzo di studi un nuovo indirizzo di studi molto molto attuale sappiamo come l'archeologia proprio in questo periodo grazie anche a tanti ritrovamenti che sono stati effettuati nel territorio non solo a Fano ma anche in altri centri della nostra provincia pensiamo per esempio a quello che accade nei pressi di Fossombrone e poi Sant'Angelo Invado con la casa del mito Suasa insomma veramente abbiamo un terreno molto ricco di testimonianze romane archeologia fascino e passione l'Ateneo lancia una nuova laurea il corso sarà attivo dal prossimo anno accademico e di competenza del Dipartimento di Studi Umanistici ebbene lo caltiverà Berta Martini di competenza del Dipartimento di Studi Umanistici la sua istituzione è allineata agli obiettivi ha detto del piano strategico d'Ateneo tale idea nasce da un progetto presentato dal DISTUM e riconosciuto come eccellenza dal Ministero che l'ha premiato con 6 milioni di euro pensate quindi veramente si creano nuovi archeologi che possono indagare se poi questi studi possono restare visibili al pubblico nel nostro territorio ed è questo che speriamo che avvenga siamo vicini a Pasqua non manca molto e a Serravalle di Carda si prepara una sacra rappresentazione le emozioni della Passio sotto il Nerone ma di questo parleremo anche nei prossimi giorni ad ora terminiamo la nostra rassegna stampa per augurarvi un buon weekend noi poi ci risentiamo lunedì sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentire a risentirci Grazie a tutti.